Allora, domani 30 settembre ci sono tante scadenze fiscali e come sempre quando si parla di fisco noi abbiamo in studio il dottor Gianluca Timpone, commercialista di riferimento di Uno Mattina. Allora, qui si parla di proroghe, proroghe per le cartelle esattoriali, proroghe per il super bonus, proroghe per l'IRAP. Sì, in pratica per quanto concerne soprattutto l'IRAP non pagata nel 2020 andava assolta e quindi pagata al 30 settembre, c'è la possibilità di poterla spostare in avanti, questo sia per quanto riguarda il pagamento dell'IRAP e sia per quanto riguarda tutte quelle cartelle esattoriali che ricordiamo a partire dal 31 agosto è venuta meno la sospensione, per cui tutte quelle cartelle esattoriali scadute andavano pagate, un'unica soluzione entro il 30 settembre. Anche per questa misura dovrebbe slittare o a fine anno oppure addirittura all'anno prossimo. Stesso discorso per quanto riguarda il super bonus che dovrebbe essere, usiamo sempre il condizionale, prorogato fino al 31 dicembre del 2023. Ma è che spettiamo la notizia ufficiale? La notizia oggi. Oggi nel Consiglio dei Ministri dovrebbero essere stabilite questi slittamenti e queste proroghe. Cominciamo invece dalle scadenze. Domani scade il termine per presentare il modello 730 per relativo all'anno 2020 ed eventualmente ottenere i rimborsi. Infatti domani c'è la presentazione ultima per il modello 730 che riguarda sostanzialmente pensionati e lavoratori dipendenti. Ciò significa però che chi l'ha presentata chiaramente a luglio o ad agosto ha avuto la possibilità di ricevere immediatamente nel mese successivo quelli che erano i rimborsi. Perché chi presenta il 730 nella maggior parte dei casi sono soggetti, quindi contribuenti, che dovrebbero ricevere un rimborso da parte dello Stato. Perché essendo lavoratori dipendenti e pensionati le tasse vengono pagate a monte, quindi se hanno delle spese laddove è possibile recuperare una percentuale tipo per aver effettuato dei lavori di ristrutturazione della casa, acquisto per quanto concerne abbonamenti, spese veterinari e quant'altro che comportano un rimborso pari al 19, al 50, al 65, a seconda della tipologia delle spese, nel momento in cui vengono inserite all'interno del 730 lo Stato riconosce loro un rimborso. Prima si presenta il 730 e prima arriva questo rimborso. Come arrivano questi soldi? I soldi arrivano direttamente o nel cedolino della pensione oppure direttamente all'interno della busta paga. Oh, allora, il 730 come si presenta? Beh, il 730 da un po' di tempo a questa parte può essere presentato autonomamente perché esiste il 730 precompilato. Uno in possesso dello speed oppure delle credenziali, anche se dal 1 ottobre andranno in pensione le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, quindi si dovrà utilizzare esclusivamente lo speed. Si entra nella propria area riservata. Se è tutto completo, il proprio modello 730 lo si invia, quindi senza rivolgersi a soggetti terzi. Per chi non ha dimestichezza con l'informatica, quindi con il PC, con il computer, ci si potrà rivolgere ai professionisti oppure ad un CAF che al costo irrisorio trasmettono quello che è il modello 730. Ricordiamo che se il modello 730 non viene modificato, si possono anche buttare i documenti a giustificazione delle spese indicate all'interno del modello 730. In caso contrario invece bisogna conservarle perché a campione l'Agenzia delle Entrate può richiedere se effettivamente spettano o meno quelle detrazioni in ragione delle spese sostenibili. Molto importante ricordare che dal primo ottobre non si potrà più accedere con le proprie credenziali ma solo con lo speed. Esattamente. Magari venerdì che siamo all'indomani della scadenza facciamo un piccolo vademecco su come farlo. Altra scadenza, l'assegno per i figli, che però potrebbe essere prorogato, no? Sì, anche per questa misura c'è la possibilità di poter presentare il cosiddetto assegno temporaneo. Riguarda sostanzialmente tutti quei nuclei familiari all'interno dei quali vi sono persone o disoccupate oppure che non svolgono appunto alcun tipo di attività. Perché se all'interno del nucleo familiare vi è soltanto uno dei due coniugi che magari o marito o la moglie che lavorano e quindi beneficiano comunque dell'assegno per i propri figli, non spetta loro alcun tipo di indennità. La richiesta va fatta direttamente all'Inps e si va da un minimo, chiamiamo così, di 30 euro ad un massimo di 250 euro mensile. Da che dipende? Dipende dal reddito ai fini ISEE. Possono presentare la domanda esclusivamente ai quei nuclei familiari che hanno un reddito ai fini ISEE inferiore a 50.000 euro. Ma lo devono documentare questo ISEE o lo Stato già lo sa? No, devono presentare la domanda e nella domanda devono indicare il reddito ai fini ISEE. Poi l'Inps comunque verificherà, tant'è vero che ci sono state circa 200.000 domande che sono state presentate, alle quali l'Inps ancora non ha risposto perché sta facendo dei controlli. Inoltre tantissime di queste domande sono state respinte. Ma ciò non vuol dire che a quei nuclei familiari non spettava l'assegno temporaneo, perché probabilmente l'Inps aveva dei dati non aggiornati. Perché ricordiamo che se all'interno del nucleo familiare magari c'era una persona che ha lavorato un mese o due mesi, formalmente rientravano tra i soggetti che non potevano beneficiare dell'assegno temporaneo, quando in realtà gli spettava. Addirittura anche chi gode del cosiddetto reddito di cittadinanza, in automatico gli vengono riconosciuti l'assegno temporaneo, che ha validità da luglio fino a dicembre. Questo che vuol dire che se noi presentiamo la domanda entro domani, noi recuperiamo anche l'assegno di luglio e agosto. Se dovessimo presentarla a partire da domani, in assenza di proroga, che comunque al 99% dovrebbe accadere, dovrebbe avvenire, noi recupereremo l'assegno da ottobre in avanti. Quanto ci arriva? Allora dovrebbe arrivare, parliamo di un minimo di 30 o di un massimo di 250 euro. Come arriva? Arriva direttamente o con bonifico o con un assegno circolare, oppure con un accredito sulla posta. Una cosa importante, per fare un esempio, che ad esempio all'interno del nucleo familiare ha un reddito di sé al di sotto dei 7 mila euro, beneficerà del massimo dell'indennità che riguarderà l'assegno temporaneo. Quindi ipotizziamo un nucleo familiare reddito di sé al di sotto dei 7 mila euro con due figli, dovrebbe ricevere circa 334 euro al mese. Questo fino al 31 dicembre di quest'anno. Bisognerebbe avere, ognuno di noi dovrebbe avere un timpone intascabile. Eh sì, assolutamente. Un timpone intascabile. L'ultima. Chiaramente a partire dal 1 gennaio l'assegno temporaneo verrà sostituito dall'assegno universale, che accompagnerà i figli dal 7mo mese di gravidanza fino ai 21 anni. Avremo tempo di ritornarci. Ma la rottamazione delle cartelle, l'abbiamo detta? No, veloci o veloci. Esatto, la rottamazione delle cartelle sattoriali. Si uccidono. Entro domani andrà pagata la rata di luglio di rottamazione di terra o saldo e stralcio che non è stata pagata a luglio del 2020. E c'è tempo fino al 5 di settembre, con 5 giorni di tolleranza. 5 di ottobre. Spera ordinario, timpone come sempre. Antonia. Grazie a voi. Antonia.